Le cellule CAR-T rappresentano una forma di immunoterapia cellulare che sta rivoluzionando il trattamento di alcuni tumori matologici, fra cui la leoncimia linfoblastica acuta. Ma che punto siamo con l'impiego di questa modalità terapeutica nei pazienti con leoncimia linfoblastica acuta cellule B e quali sono le novità su questo fronte? Facciamo il punto con un'esperta, la professoressa Concetta Quintarelli, che su questo tema ha tenuto un interessante intervento qui a Roma durante la quarta conferenza annuale di Soho Italy, una società scientifica giovane e dinamica nata dalla collaborazione tra l'IRST di Meldola e l'MD Anderson Cancer Center di Houston. Professoressa, in Italia abbiamo già da un paio d'anni due terapie con cellule CAR-T cosiddette commerciali. Quali sono e che risultati si sono ottenuti negli studi che hanno portato all'approvazione di queste terapie e in quale fase dell'iter di cura si utilizzano? I due prodotti commerciali oggi disponibili per i pazienti con la leucemia linfoblastica acuta a cellule B sono recettori chimerici che targhettano il CD19 e sono approvati nel contesto sia della leucemia linfoblastica acuta B pediatrica che adulta. La loro prima approvazione le ha visti utilizzate in pazienti in terza linea ma ad oggi si sta approvando l'utilizzo in seconda linea soprattutto di uno dei due prodotti. Dunque le abbiamo a disposizione da un paio d'anni. Esistono già dei dati relativi alla loro efficacia e sicurezza anche nella cosiddetta real life cioè nella pratica clinica quotidiana? Gli studi di real life sono stati pubblicati in 2019 e 2021 su questi due prodotti hanno dimostrato che sia l'efficacia che la sicurezza dell'utilizzo in real world dei prodotti è praticamente sovrapponibile a quello degli studi pilota dimostrando quindi che il disegno clinico dello studio riesce a garantire una robustezza del prodotto stesso e quindi efficace sicurezza anche quando utilizzati nel setting commerciale. E quindi quali sono i risultati che si ottengono con questi trattamenti dal punto di vista dell'efficacia? Gli studi di long term di questi prodotti hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti trattati con entrambi i prodotti riescono a raggiungere la remissione completa ma a mantenerla nel tempo. Lei durante la sua relazione ha spiegato che diciamo al di là di queste due CAR T, chiamiamole commerciali sviluppate da industrie farmaceutiche, molte istituzioni accademiche stanno lavorando su questo fronte per produrre nuovi tipi di CAR T. Quali sono quelle più promettenti, come agiscono e che risultati hanno dato finora nelle sperimentazioni? I ricercatori di tutto il mondo stanno sviluppando prodotti CAR T per targettare e quindi curare non soltanto disordini ematologici ma anche tumori solidi. All'interno del Bambin Gesù abbiamo diversi trial ad oggi aperti cercando di sviluppare non soltanto nuovi costrutti chimerici per diverse indicazioni sia ematologiche che di tumori solidi ma anche per implementare il cosiddetto point of care ovvero la produzione nella stretta vicinanza del paziente naturalmente in siti produttivi autorizzati dalle agenzie regolatorie ed ogni prodotto che si testa avviene sempre all'interno di un clinical trial approvato dalle agenzie regolatorie.